perfetto bene buonasera buongiorno buon pomeriggio e buonanotte per tutti quelli che ci ascoltano che ci ascolteranno alle diverse latitudini del pianeta oggi ho con immenso piacere fa parte di questo episodio filippo galli al quale do immediatamente il benvenuto ciao filippo grazie per aver accettato il nostro invito ciao andrea grazie grazie a voi ciao salvatore ciao a tutti coloro che sono in ascolto immagino molti milanisti magari qualcuno anche non milanista per me è un onore essere qui tra voi e poi la cosa bella appunto è che ci sono collegamenti un po da tutto il mondo credo che davvero questa è una cosa positiva no delle tecnologie dell'innovazione e quant'altro quindi grazie per questa chiamiamola così con vocazione grazie a te filippo io ho chiamato con me oggi anche salvatore d'amico che molti di quelli che seguono questo canale già conoscono l'ho chiamato perché per collegarmi ad un aspetto che a me è perso molto interessante visto che salvatore oltre a scrivere per il blog dell'associazione milanisti 1899 insieme stiamo portando avanti un progetto sul podcast proprio di banda casciavita per iniziare a fare dei contenuti un po più trasversali no contenuti che possono essere l'interpretazione di una partita l'approfondimento di un episodio storico di un aneddoto quindi cercare di fare dei lavori un po così salvatore si sta appassionando e quindi a breve inizieranno uscire anche i suoi i suoi episodi e i suoi articoli in versione podcast dico questo perché con filippo io stavo parlando con lui nella nella pre live relativamente ad un blog che lui ha aperto non da moltissimo filippo giusto sì da praticamente prima dei mondiali volevo aspettare il post mondiale ma poi l'occasione era un po ghiotta tra virgolette ma tra l'altro ho iniziato in maniera un po particolare parlando della storia dei mondiali attraverso un amico stavolta milanista che ha forse la raccolta più grande dei biglietti delle finali dei mondiali non solo delle finali ma di tutte le partite dei mondiali quindi attraverso questi foto dei biglietti e di memorabilia dei mondiali ho raccontato la storia dei mondiali per poi ovviamente fare qualche descrizione della partita analisi e quant'altro sì infatti questo qui è il blog che lo metto un attimo in evidenza che si si chiama la complessità del calcio ed è molto interessante perché come hai fatto accendendo te c'è una parte dedicata appunto alla alla storia del calcio ci sono cinque articoli belli sulla sul numero dieci cinque più uno poi c'è perché c'era uno introduttivo di andrea fiore e poi siamo andati a cercare di di raccontare un po tutti i dieci qualcuno con un po più di approfondimenti qualcuno soltanto accennandolo ovviamente qualcuno è rimasto fuori però l'abbiamo detto se qualcuno ritiene che qualche giocatore qualche vuoi per affetto particolare per colore di maglia sia rimasto fuori ce lo segnali e noi magari andremo ad approfondire la cosa insomma e adesso passo la palla direttamente a salvatore perché lui mi aveva proprio fatto un discorso relativamente a questo anzi se vuoi salvatore te lo faccio introdurre immediatamente sì sì io ho letto con attenzione e con interesse i cinque articoli dedicati ai giocatori i numeri dieci sia di maglia che di che di ruolo e mi sono chiesto come mai non avessi inserito andrea pirlo in questo in questo elenco perché nella sua eh nella sua nel suo livello tattico nella sua intelligenza tecnica nella sua visione di gioco nella sua capacità di spostare eh il baricentro dell'azione offensiva da un lato dall'altro più avanti più indietro e diciamo se c'è Modric se c'è Modric Filippo diciamo che non c'è Pirlo ecco no allora nulla di di personale ovviamente tra l'altro con Pirlo io ho giocato nel nel Brescia quando lui era proprio un ragazzino all'inizio e lì giocava play perché là davanti c'era eh c'era Baggio ecco io lo hai ragione le chiave la chiave di lettura di questi cinque articoli è proprio legata non tanto al numero dieci no perché poi ci sono giocatori che non hanno magari indossato il numero dieci ma hanno eh nell'anima e nella nella capacità di 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 creare gioco di vedere la linea di passaggio erano di fatto dei dieci eh Pirlo era perché io ecco nella mia nella mia eccezione nella mia visione eh eh lo vedo l'ho visto forse perché ho giocato con lui in quel ruolo lì lo vedo più come un quattro come un play un regista un po' più arretrato ecco dopodiché hai ragione Pirlo è uno che sapeva mettere anche la palla goal tra l'altro eh ricordare quella bellissima palla peraltro giocata da dietro comunque da play verso Baggio che la controlla in un tocco riesce a abbattere eh cioè a far fuori a dribblare diciamo così al col primo tocco eh il portiere della Juventus e e fare gol in un in un Juventus Brescia spero di averti risposto è chiaro sì 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 assolutamente sì assolutamente magari faremo un pezzo anche su Pirlo nello specifico su Andrea io volevo chiedere un'altra cosa invece perché andando a vedere il sito nell'ambito eh dedicato alla medito alle metodologie eh dove si parla qui per esempio c'è un articolo sul possesso palla e la complessità eh sinergizzare il sistema eh è uno che indica l'importanza della scuola calcio nel percorso formativo eh del giovane eh calciatore eh Filippo ha ha è stato una parte importantissima nel percorso della storia del settore giovanile del Milan eh ed ha portato eh mi sento di poter dire con 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 serenità tantissime cose buone e a lui chiedo in questo momento storico secondo te eh in cui il calcio si sta evolvendo prendendo delle direzioni ben precise abbiamo fatto delle delle analisi recentemente relative a i fatturati che portano a casa con i diritti televisivi in Premier League e invece in Italia stiamo soffrendo per tutta una serie di situazioni sistemiche proprio ed in questo senso incuriosiscono le le vie che possono essere percorse per andare a pareggiare quel livello in termini sportivi quindi per raggiungere lo stesso livello sportivo senza avere le stesse risorse economiche oppure quella capacità di spesa in questo senso intervengono le competenze e quanto conta quindi secondo te un settore giovanile fatto bene? Beh è chiaro che il mio punto di vista è un po' di parte nel senso che io ho sempre lavorato nel settore giovanile da quando ho smesso di giocare a calcio di scendere in campo come giocatore e quindi per me è un settore strategico e dovrebbe essere nella logica no di tutti perché settore giovanile vuol dire in linea di massima un costo del giocatore che arriva alla prima squadra quando appunto riesce questo tipo di percorso e si raggiunge l'obiettivo voluto un costo molto più basso rispetto a quello che è invece il costo di un cartellino di un giocatore che noi andremmo a prendere fuori o comunque eh del costo che dovremmo pagare anche del suo contratto perché generalmente a parte alcuni casi abbiamo visto vuol dire una ruma poi chi è chi cresce nel settore giovanile difficilmente ha contratti che sono poi legati al valore del mercato no quindi generalmente si viene calmierato anche quella quell'aspetto e quindi giocoforza sembrerebbe normale che una squadra si guardasse sul proprio guardasse il proprio territorio per formare i giocatori oggi ehm ci sono altre logiche che in questo momento sono preponderanti eh sono logiche che guardano verso un players trading no cioè un un mercato dei giocatori per cui si preferisce andare all'estero all'estero dove sicuramente hanno ehm più coraggio da una parte eh ma ci sono anche club che invece fanno di questo mercato la loro fonte di sostentamento e quindi i club italiani vanno lì vanno lì e prendono questi giocatori che magari hanno già esperienze nel calcio adulto e sono tra virgolette più pronti rispetto agli italiani ed è chiaro che è un problema anche nostro quindi è un problema eh di sistema come dicevi tu prima no eh di settori giovanili è un problema di scuole calcio prima ancora perché magari i settori giovanili delle professionisti che vanno a pescare nelle nelle scuole calcio dilettantistiche ed evidentemente i giovani eh non sono ancora pronti quanto lo sono quelli di parietà eh che provengono dall'estero e quindi eh dove è dove sta il problema probabilmente nella nostra idea metodologica nella nostra idea di formazione eh che però è continua a essere ancorata a a a un pensiero eh non dico vecchio però un pensiero che credo che ormai si debba superare che è quello riduzionista dove si debba si dice ancora che bisogna lavorare dal semplice al difficile quindi cominciare a fare tecnica analitica prima di poter eh pensare che il giocatore sia pronto entrare nel gioco e insomma e via discorrendo adesso sintetizzo ovviamente eh non voglio comunque rendere dei termini cioè rendere un problema così grande in maniera troppo semplice però poi sintetizzando poi alla fine i giocatori non sono mai pronti perché io credo che se un giocatore se un allenatore vede un giocatore qualunque sia la sua età eh se pensa che sia forte lo mette in campo e allora forse i nostri ragazzi non sono non sono ancora pronti ed è drammatico perché noi vediamo che io facevo proprio un'analisi ma proprio con carta e penna lunedì no martedì quando è finito il turno del nostro campionato sulle dieci partite c'erano il venticinque per cento più o meno di italiani in campo nell'undici iniziale delle 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 nostre venti squadre è chiaro che dobbiamo porci delle domande se vogliamo e invece per quanto riguarda gli insegnanti di calcio qui è stato fatto riferimento no perché io sto iniziando a notare quanto alcuni non tutti perché alcuni sono veramente adatti però alcuni allenatori delle eh delle primavere li vedo più proiettati a passare attraverso quella eh quello step per poi andare a allenare magari in serie A mentre dal mio punto di vista però correggimi tu se mi sbaglio eh un allenatore che decide di essere un allenatore per la primavera è un allenatore che si è formato specificatamente per crescere un giocatore in quella specifica fascia di età o magari anche più piccoli no proprio per preparare i giocatori alla carriera o eventualmente la prima squadra cosa ne pensi? Sì sì non necessariamente beh innanzitutto non c'è un giusto uno sbagliato ognuno porta ovviamente quello che sono le proprie idee quello che eh la propria esperienza il proprio vissuto eh e quello che ti posso dire è che sì è vero molti allenatori a molti allenatori magari ex giocatori viene subito affidata alla primavera io stesso ho avuto la primavera dopo aver fatto due anni di assistente a Franco Baresi nel 2004 e nel 2005 poi mi venne affidata la primavera eh subito eh dal club eh e quindi magari forse non si è ancora pronti no? Perché non si è fatto un percorso a livello di formazione in quanto in quanto tecnici eh però ecco io credo che su quella fascia di età che siamo già vicino all'età adulta è chiaro che contano ovviamente l'aspetto tecnico tra l'altro settimana prossima usciremo proprio con un articolo sulla competenza del responsabile di settore giovanile è chiaro che l'aspetto tecnico debba essere quello preponderante eh però non è eh però eh soprattutto su certe fasce di età sono importanti anche altri aspetti le dinamiche di spogliatoio la capacità di essere eh empatico e quindi di 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 conoscere dinamiche di spogliatoio no? Poi in Italia c'è sempre c'è questa come posso dire polemica sempre sul fatto che eh quelli che non hanno fatto determinate presenze in A, in B o comunque tra i professionisti eh non hanno accesso o hanno molte più difficoltà per arrivare a ottenere tutte le 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 licenze che la FGC richiede per andare a allenare a certi livelli e anche qui si è aperto un altro un altro tema eh allora io credo che eh non è necessario che uno abbia giocato a calcio a certi livelli per essere un buon allenatore eh c'è tutto un iter da seguire attraverso la federazione eh importante però poi c'è tutta un'esperienza che uno dovrebbe fare e dovrebbe anche capire quali qual è il come posso dire eh la fascia di età in cui uno si senta più portato per poter ehm allenare ecco io non uso né educare né né formare né formare no formare sì lo uso né istruire ecco istruire è un termine che io cancello completamente perché istruire dà proprio la sensazione eppure anche nella federazione ci sono eh dei regolamenti che parlano proprio di istruzione di istruttore istruttore a me dà l'idea di quello che ti viene ti dà il libricino e ti dice devi fare esattamente così ed è la cosa che dal punto di vista dell'apprendimento è la cosa peggiore per i nostri per i nostri bambini per i nostri giovani calciatori e oggi anche i giovani calciatrici visto che il calcio femminile sta prendendo sempre più piede eh è chiaro che la domanda che mi hai fatto richiede davvero molte più eh non mi posso dire molti più paradigmi no? Molti più sfaccettatura e occorre vederla da diversi eh da diverse angolazioni io spero di esserti di averti risposto almeno in parte al al tuo quesito no no sì sì sicuramente no in questo senso non so se Salvatore voleva aggiungere qualcosa però visto che ci sono anche diverse domande eh diverse domande in chat. Sì diciamo ricollegandomi al tuo articolo sulle scuole calcio e sulle sui settori giovanili dilettantistici e professionistici e ovviamente so già come la pensi perché avendo letto la l'articolo ma non ti sembra un eccesso che già nelle categorie nelle primissime categorie under 14 eh gli allenatori tendano ad applicare dei concetti tattici a a questi a questi ragazzini e le le marcature preventi c'è c'è il figlio di un mio collega che gioca in una squadra under 14 qua del del palermitano e lui mi racconta che non sopporta quando gli allenamenti eh l'allenatore rimprovera uno dei giocatori perché non fa la la mercatura preventiva e mentre la mia sensazione è che all'estero si si eh si facciano più giocare con il pallone si faccia più sviluppare dal punto di vista tecnico gli si faccia sviluppare eh il rapporto fisico con il pallone dico sei d'accordo con questa cosa? No Salvatore cioè no eh adesso cerco di articolare un po' meglio la mia il mio punto di vista eh ok eh noi dobbiamo eh cercare di metterci d'accordo su che cosa voglia dire ehm allenare un giocatore e come pensiamo che il giocatore apprenda eh dal mio punto di vista è quello che è il punto di vista io dico il mio gruppo di lavoro ma poi siamo alcune persone che la pensiamo in un certo modo riteniamo che il gioco sia eh l'elemento e lo strumento più importante per apprendere quindi noi più facciamo giocare i nostri i nostri bambini meglio è cioè io per giocare a calcio mi devo allenare giocando a calcio questo non vuol dire ok metto i bambini e giocano cinque contro cinque sette contro sette nove contro nove undici contro undici e io allenatore sto con le mani concerte eh al di fuori e devo essere partecipi come allenatore devo stare attento a ciò che accade devo poter intervenire magari con la giusta modalità con i giusti tempi eh quello che eh ti contesto è per ventiti tra virgolette è questa idea che non si debba fare tattica eh tattica alla fine allora come la intendo io per me tattica è scelta ora io non posso pensare di allenare una squadra anche i bambini più piccoli eh se non li se non li alleno nella scelta cioè il gesto tecnico e la scelta non posso separarli perché se io penso di insegnare al bambino il gesto tecnico cioè metto il bambino come facevamo noi quando eravamo bambini no e ahimè secondo me ahimè lo mettiamo ancora adesso i bambini al muro no a fare l'interno piede esterno piede perché più ripetizioni faccio più imparo più metto il bambino nelle condizioni di apprendere non è così perché poi quel gesto lì messo nel gioco è tutta un'altra cosa perché il gioco è complesso ci sono tutta una serie eh il calcio è un sport con abilità aperte e quindi non possiamo pensare che l'apprendimento lì abbia un transfer eh nel poi nel gioco allora io quelle ripetizioni lì devo cercare di fare in modo che il bambino la bambina le faccia all'interno del gioco e ovviamente non saranno ripetizioni eh sempre uguali non potranno essere eh controllate quindi il mister non può dire ah bravo hai fatto dieci dieci passaggi corretti contro il muro su dieci sei bravissimo eh quando ne farai 15 su 15 oppure insomma andrai a migliorare sarai sempre più bravo no e quindi ehm come posso dire andiamo verso un'idea di non controllo da parte dell'allenatore eh di non ehm come posso dire eh che non verifico continuamente quello che sta accadendo ma nel tempo posso verificare un miglioramento da parte del giocatore ma tornando all'idea della della tattica noi continuiamo a dire non vogliamo eh che i bambini facciano tattica ma nel momento in cui un bambino ha di fronte un avversario ha una palla tra i piedi è un compagno da a cui poterla passare in quel momento è già tattica è già poi lui non lo comprende io non gli devo dire stai facendo tattica è chiaro però lui proprio perché dicevo per me tattica è scelta lui deve scegliere cosa fare deve scegliere se andare nel dribbling o deve scegliere se andare ehm al passaggio io porto sempre un esempio di un di un bambino che è in me e io mi sento responsabile perché allora ero responsabile del settore giornale che era un 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 bambino prodigio chiamiamolo così tanto è vero che lo chiamavano vabbè uso un termine diverso perché così almeno non lo individuiamo lo chiamavano Mazinga no Mazinga quando c'era da risolvere i problemi della squadra il mister Mazinga e Mazinga risolveva scartava tutti e vinceva le partite allora noi attenzione ragazzi perché nel momento in cui Mazinga troverà degli avversari più preparati più organizzati lui stesso crescendo avrà difficoltà perché crescendo si devono sistemare tutte quelle che sono le ehm coordinazioni specifiche del calcio se noi non gli avremmo fatto scoprire l'importanza del compagno lui penserà di dover sempre risolvere le cose da solo e da solo non sarà più in grado di risolverle e questo bambino ahimè a una certa età andando avanti nel tempo ha lasciato il calcio perché non era più invincibile non riusciva più a superare tutti da solo ed è stato una una un fallimento no per il bambino certamente ma per per noi per me questo è è un caso eccezionale se vogliamo però stiamo attenti no a dire eh ma i bambini devono fare la tecnica l'uno contro uno eh più li faccio imparare a superare l'uomo meglio è tanto noi ehm il dribbling non lo possiamo insegnare lo possiamo mettere nelle condizioni il bambino di fare dribbling questo certamente sì e lui impara noi dobbiamo creare le condizioni un set di apprendimento perché il bambino impara questo è io sì posso fargli vedere che so che faccio il dribbling come si fa per imitazione qualcuno può apprendere qualcosa ma non è non è quello eh l'esatta l'esatto modo di fare apprendimento io porto sempre anche questo esempio io ero adulto avevo 27 anni gli anni di sacchi primi anni di sacchi allora a me sacchi diceva eh Filippino devi venire un attimo una mezz'oretta prima per fare palestra perché devi rinforzarti no io andavo mezz'ora prima poi mi diceva devi venire anche mezz'ora prima ancora di più perché devi fare un po' di tecnica quindi io facevo tecnica la facevamo tra i cinesini la tecnica ok e nelle scuole calcio dicono che fare i cinesini è proprio ideutico al dribbling perché impari a passare no tra tra gli avversari a superare il cono poi quando diventerà l'avversario sarà semiattivo poi attivo eccetera no perché io a un certo punto vi dico che ero diventato così bravo a passare in mezzo ai cinesini ai birilli che prendendo i tempi o facendo lo slalom parallelo arrivavo con donadoni e con marco simone solo che loro poi arrivavano a san siro facevano i dribbling io credo nella mia carriera di non essere mai riuscito a fare un dribbling ma neanche ci provavo vuoi per il ruolo vuoi perché però ero diventato bravo a fare i cinesini in a dribblare i cinesini non c'è transfer di apprendimento mettiamocelo in testa quindi io più sto nel gioco più aiuto i miei bambini i miei ragazzi a giocare ci vuole più tempo sicuramente ma i bambini non hanno tempo siamo noi allenatori e spesso anche i genitori che non abbiamo tempo scusa mi sono dilungato in questa cosa ma assolutamente interessante qui prendo risposta esaustiva è veramente ottimo ci sono tanti messaggi da parte da parte di questo di sarà che dice non mi comunque mai di ascoltarti filippo la tua competenza e la tua preparazione sono davvero illuminanti quindi sicuramente poi ce ne sono altri nessuno si è annoiato in questo senso io ti chiedo mi tolgo una curiosità quando state vedendo dei dei giovani dei bambini ancora comunque dei ragazzi adolescenti ancora giovani che stanno crescendo come come scoprite di che cosa hanno bisogno si devono lavorare sulla visione periferica sul controllo palla su sulla forza fisica sulla resistenza cioè quali sono i segnali anche lì lavorate su un qualcosa che avete di nato perché l'occhio anche lì è un po come il dribbling è una cosa che ce l'hai o non ce l'hai e allora è ovviamente c'è una come posso dire una capacità di osservazione da parte degli scout io non sono uno scout però gli scout hanno capacità di osservazione hanno capacità di di capire no io generalmente dico che per quello che riguarda la mia conoscenza di scout ma ripeto non sono uno scout è sempre il primo tocco il rapporto con la palla quello che che veramente colpisce no all'inizio poi è vero c'è la capacità di oggi dicono di scannerizzare cioè di guardarsi attorno quello che succede a volte i bambini ce l'hanno ce l'hanno dentro ce l'hanno ce l'hanno già a quell'età lì poi possono sbagliare possono sbagliare il passaggio vuoi per forza vuoi per per qualsiasi ragione però qual è l'errore che viene ancora commesso da parte di chi poi fa formazione o allena di dice ok se sbaglio la scelta vuol dire che devo andare ad allenarlo il bambino dove nel contesto del gioco se sbaglia il gesto tecnico cioè il passaggio la direzione piuttosto che la forza vuol dire che devo allenarlo nell'analitico no non è così non posso separare le cose l'ho già detto prima cioè il calcio è complesso proprio per questo e se noi pensiamo davvero ai nostri bambini quando giocano ma ma anche a noi quando giusti giochiamo in un campetto tra amici allora provate a pensare no l'esempio che mi porta sempre il professor quartieri che è uno dei punti dei miei colleghi con cui abbiamo fatto tutto il percorso al milan in federazione poi nell'anno e mezzo a parma quando un bambino pensiamo a una palla da calciare ferma no una punizione ora dobbiamo prendere prima quando stiamo calciando prima di calciare un sacco di informazioni rispetto dove la barriera dove posizionato il portiere quali sono i compagni a cui magari decido di passare la palla se non decido di calciare in porta e quindi questa è una cosa ok faccio inconsciamente perché la fa il mio il mio cervello no poi nel momento in cui devo andare a calciare quando vado a calciare devo reclutare non credo in più di cento distretti muscolari secondo intensità e momenti di attivazione differenti se già questo ti fa capire quanto sia complesso quella cosa lì ma quello è un calcio da fermo ok pensiamo tutto questo messo in dinamica nella dinamica del gioco dove ci sono se siamo parliamo di dilettanti di scuole calcio ci sono i miei genitori ci sono i genitori degli avversari che urlano i miei genitori mi dicono cosa devo fare i genitori del mio amico del mio compagno di squadra mi dicono che devono passarla al loro figlio l'allenatore che spesso mi dice cosa devo fare l'arbitro ovviamente che porta avanti le regole cioè il rispetto delle regole il compagno che mi chiama la palla l'avversario che cerca di prendermela sta palla tutto questo non è complesso e non ho parlato di questioni un po più queste sono un po più intuitive poi c'erano tutte le questioni un po più specifiche legate a tutta una serie di di come dicevo prima all'idea che il calcio all'idea ormai alla certezza che il calcio sia un abilità necessiti di abilità aperte non abilità chiuse e quindi l'ambiente cambia continuamente no che poi sono le cose che ho detto che ho detto fino adesso anche qui scusatemi ma volte mi dilungo e mi faccio prendermi no 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 assolutamente noi non ti fermeremo no ti dico una cosa invece per collegarmi a questo per esempio noi recentemente quando c'è stato questo periodo che parlando un attimino del milan in cui c'è stato questo gennaio che ha fatto parte del gennaio peggiore della storia del milano e tra le varie situazioni quello che si percepiva da fuori era che c'era non non siamo mai stati dentro lo spogliatoio però quello che si poteva percepire era magari qualche cosa vedendo qualche atteggiamento in campo qualche giocatore che si mandava a quel paese cose che possono succedere succedono anche a livello amatoriale no e poi a un certo punto le cose hanno iniziato a riprendere io avevo preparato a suo tempo una slide siccome mi è capitato io sono lavorato in scienza della comunicazione e avevo preparato questa questa slide che che diceva se dovesse esserci stato un conflitto e questo dovesse essere risolto questi sono tutti i potenziali benefici che ne possono essere che ne possono venire a capo quindi ridurre lo stress migliorare l'autostima migliorare l'efficacia migliorare le relazioni e aumentare l'energia tutto questo nell'ottica di considerare che il lavoro individuale si esalta o si deprime a seconda di come lavora il collettivo cioè se il collettivo insieme sta lavorando bene l'individuo ne emerge positivamente diversamente il contrario anche nella fase adolescente questo fenomeno è così marcato è una cosa che viene avanti più avanti nel tempo che quando ero giovane giocavo avevo poco da discutere in questo mi ricordo no scusami ti ho perso un attimo perché sei andato si è un po in a freezing come si dice la durante la tua la tua esposizione cioè quello che stai mi stai dicendo se ho compreso è che quanto poi il fatto che ci siano stati dei conflitti all'interno del gruppo abbia in qualche modo condizionato il rendimento di qualche giocatore e se questo può valere anche a livello di settore giovanile nei giorni in generale se il conflitto che c'è all'interno di un gruppo peggiora così tanto le prestazioni della squadra e poi anche quelle individuali perché la squadra lavora peggio di insieme e quindi l'individuo fa fatica se non è sicuramente in una tornando a parlare di visione sistemica non è proprio questo il risultato non è mai dato dalla somma il totale non è mai dato dalla somma delle singole dei singoli elementi dei simboli dei singoli componenti ma da come questi componenti interagiscono tra di loro ed è chiaro che nel momento in cui ci sono disaffezioni ci sono problematiche questo fosse proprio il fatto delle delle relazioni sto parlando di relazioni di gioco è non tanto delle relazioni poi quelle tra persone e ovviamente anche quelle sono importanti ma nelle relazioni di gioco è indubbio che che abbiano un'influenza in positivo e negativo e questo determina come mai a volte certe squadre che sono considerate inferiori riescano a portare a casa un risultato anche con quelle che sono appunto le più forti e su queste cose dobbiamo dobbiamo saper lavorare dobbiamo saper dobbiamo saper incidere io credo che tornando a quello che dicevi tu della prima squadra sia stato un insieme di componenti no indubbiamente qualche qualche problematica legata alle questioni che i giocatori siano stati mondiali e poi parliamo sempre di quelli che sono stati mondiali ma non parliamo di quelli che sono stati qui perché quelli che sono stati qui non hanno avuto lagone della partita no quindi la l'idea di prepararsi per una partita vera per per più di un mese anche loro e quindi se da una parte gli altri sono stati più stressati forse da quest'altra parte quelli che sono rimasti a casa non avevano non hanno vissuto più quello quella adrenalina quella quella preparazione che erano soliti fare e allora questo ha creato un mismatch non mismatch non è corretto però una un disequilibrio che poi andato ad influire sulla prestazione non sapremo mai se viene prima l'aspetto emotivo se viene prima l'aspetto atletico se si viene prima l'aspetto tecnico l'aspetto tattico cioè inteso come capacità di occupare gli spazi eccetera è chiaro che la prima cosa che noi diciamo quando vediamo che una squadra sta perdendo e la prende poco non stanno bene fisicamente però non è così cioè non se noi magari andassimo a vedere i dati non diremmo la stessa la stessa soluzione cioè non daremmo la stessa risposta e quindi dobbiamo stare attenti proprio perché non possiamo pensare di risolvere le cose prendendo in considerazione solo un aspetto ma come dicevo prima parlando sempre di complessità bisogna riuscire a stare nella complessità perché la complessità non la risolvi non la non c'è una soluzione la come se devi starci dentro e secondo te il calcio può approfittare di tutto una serie di competenze che si stanno sviluppando maggiormente in quest'ultimo periodo competenze che quando io ho finito di laurearmi per esempio non c'erano ancora cioè certi temi non venivano approfonditi la gestione del gruppo la psicologia all'interno dei gruppi quindi affiancare a i manager tecnici agli allenatori anche dei profili di persone che hanno sviluppato competenze non so un ambito psicologico sì io credo allora credo che poi nelle prime squadre valga un giocatore si possa valere di una persona di fiducia in questo senso molto meglio se fosse una fiducia una persona scusate di fiducia del club o preposta a questo tipo di attività all'interno del club per quello che riguarda noi ad esempio qual è stata la mia esperienza settore giovanile del milan noi credo che siamo stati primi tra i primi non credo forse i primi a creare una struttura psicopedagogica all'interno del settore giovanile proprio per gestire le situazioni ma non tanto per gestire le situazioni difficili in agire in termini terapeutici chiamiamoli così ma proprio per aiutare i nostri ragazzi a crearsi una struttura tale e a formarli proprio perché potessero potessero in qualche modo affrontare le difficoltà di un percorso come quello all'interno di un settore giovanile del milan perché non dimentichiamoci tra l'altro sono stato proprio in bocconi 15 giorni fa a parlarne non dimentichiamoci che noi come come squadre professionistiche a 14 anni prendiamo dei ragazzini li portiamo magari da palermo o dalla sicilia o comunque da una regione molto lontana rispetto a milano nella nostra struttura di accoglienza no o a torino piuttosto che a roma e a firenze quindi li togliamo dal loro contesto di crescita dai loro amici dalle loro relazioni e questo è per loro è un problema se non gli aiutano aiutiamo a ricostruire una loro identità a conoscere il territorio ad essere diciamo così in relazione col territorio e questo è un problema in più che noi diamo questi ragazzi è un problema in più ma sicuramente non li aiutiamo a essere nelle condizioni di salute anche mentale se vogliamo per poter dare il meglio sul campo e allora ci siamo strutturati proprio con un'area psicopedagogica che fosse una parte di campo e una parte sulla struttura di accoglienza dei ragazzi e poi nel tempo l'abbiamo portato avanti questa idea secondo noi lo psicologo deve deve conoscere di calcio proprio perché per poter aiutare il bambino la bambina fino in fondo deve conoscere noi abbiamo cominciato nel 2012 a costruire da dietro oggi il tanto tanto vituperata costruzione da dietro che non è altro che uno strumento di gioco e di formazione nel 2012 i bambini cominciavamo a dirgli a 13 anni devi costruire da dietro devi avere coraggio essere tu a determinare quello che accade noi in campo e potete immaginare sia da parte degli allenatori sia da parte poi delle famiglie ma come no mio figlio lo mettete nelle condizioni di sbagliare quant'altro è normale quindi se non c'era un aiuto da questo punto di vista e lo psicologo non era a conoscenza di quello che era la nostra idea di calcio e quindi per noi il psicologo doveva andare in campo deve andare in campo e deve sapere di calcio così come tutti coloro che fanno parte di uno staff di lavoro e questo comporta che cosa una grande fiducia da parte di tutte le componenti del dello staff perché se l'allenatore responsabile vede l'allenatore in seconda che parla con un giocatore il preparatore atletico che fa altrettanto o il lo psicologo che fa altre che fa altrettanto e non ha fiducia comincia a vedere le streghe sono spiegato assolutamente lo so se salvatore volevo prima di cambiare argomento se voleva integrare con un'altra domanda nel frattempo io saluto gabri gabriele è il ragazzo che mi ha fornito il tuo contatto so che vi siete sentiti voi vi saluto gabriele saluto rocco che fa una domanda chi del milan di oggi preferiresti non marcare e perché proprio leao ha già deciso sicuramente leao è un giocatore che va anticipato però ecco sì perché ovviamente nello spazio diventa difficile oggi noi eravamo anche tra virgolette facilitati perché non dimentichiamo che c'era la tattica del fuorigioco e la regola del fuorigioco non parlava di fuorigioco attivo o passivo era sempre fuorigioco e questo ci aiutava la famosa linea difensiva guidata da franco metteva spesso i giocatori non direttamente anche non direttamente implicati nell'azione in fuorigioco e questo indubbiamente ci aiutava io ho giocato con i giocatori non so se ve li ricordate perché insomma sono passi tanti anni ma comunque avevo rumenighe che certamente sui 100 metri me ne potevano dare 10 però poi è una questione di lettura delle situazioni di gioco e anche qui mi piacerebbe portare tanto un tema caro che è quello delle capacità condizionali quanto siano o meno importanti rispetto alla capacità di comprendere tempo e spazio nella formazione di un giovane calciatore questo è un tema interessantissimo una volta ho sentito poi dopo la parola salvatore ho sentito guardiola in un'intervista dire io posso anche allenare quelli che sono i concetti spazio temporali e dire dove i giocatori devono andare però il quando lo decidono sempre loro ed è quello che fai fatto ma tutto lui disse se mi può e se mi posso permettere disse dopo una partita dopo un juventus barcellona credo non ricordo fini pari se non sbaglio il barcellona era avanti e poi venne ripreso dalla juventus adesso non vorrei sbagliarmi e gli tutti gli dissi abbiamo visto la squadra dal punto di vista atletico della condizione atletica non al meglio perché poi ha concesso alla juve molto e lui ha detto ha detto non la per me la condizione atletica non esiste è una questione animica non è mica dove intende adesso io poi nello spagnolo però è chiaro che intende tutto l'insieme non può essere solo una questione atletica evidentemente quando poi va in vantaggio ti rilassi pensi che sia vinta inconsciamente la mente nostra sappiamo quanto quanto può essere strana e quindi accadono cose che non erano preventivate allora bisogna cercare di allenarsi di prepararsi anche per questi momenti e quindi è bello andare dentro queste alle pieghe di questi ragionamenti dove difficilmente poi è difficile trovare che tutti si sia d'accordo però io ho una grande convinzione rispetto a questo a questo pensiero assolutamente salvatore prego poi volevo fare un altro un'altra domanda no io se se diciamo hai in mente di cambiare argomento avevo una domanda di intermezzo da fare a filippo da amante di calcio ho raccontato eh io io seguo molto i vari porrà di vari federico buffa eccetera prego pensavo e pensavo a mh alla partita che abbiamo vinto ad atene nel novantaquattro con il barcellona in cui tu giocasti eh con paolo maldini difensori centrali eccetera e pensavo alla semifinale più che a quella partita e ho pensato chissà filippo galli come si sarà sentito durante la semifinale milan monaco quando vennero ammoniti franco baresi e venne spusso billy costacurta c'era il ricordo di questa cosa assolutamente assolutamente ero in panca lì ben preciso con a guffare i miei compagni no io proprio l'altro giorno mi hanno detto mi hanno fatto delle domande e mi hanno chiesto ma qual è la partita che tu ricordi con maggior piacere risposi milan monaco 3 a 0 in casa perché quella poi mi permise di giocare alla finale visto che vennero squalificati paolo e billy io ero molto sereno nel senso che era qualcosa che mi veniva ridato nella mia testa e ovviamente perché io ero convinto di poter giocare anche la finale di di vienna contro il contro il benfica e poi non invece sa che decise per costa corta ma poi compresi la scelta perché poi quando passi dall'altra parte non sei più giocatore comprendi anche nole i meccanismi delle scelte e perché di certe scelte e quindi io quando arrivo arrivo con la doppia squalifica io ero pronto cioè ho continuato nelle settimane che mancavano ad allenarmi sempre come ne ho allenato prima e dovevo convincere capello capello era un po più restivo perché ovviamente un giocatore che giocava con meno continuità aveva marcel desai l'ho provato in difesa poi marcel anche lui quel ruolo cui aveva peraltro già giocato non si sentiva proprio a suo agio almeno non così eh fu eh credo che poi perdiamo una partita a Firenze giocando proprio male difensivamente e quindi fu lì credo che capello si decise a a darmi il ruolo di difensore centrale che occupai con con Paolo a sinistra c'era Panucci a destra il tasso eh ecco quindi questo spero anche qui di essere stato esaustivo non andò malissimo grazie grazie assolutamente ancora Romario ancora Romario se te la ricorda però non fate pensare perché sono passati 29 quasi 30 anni mamma mia eh lo so lo so ma anche noi guarda Filippo io me la ricordo molto nitidamente mi ricordo ancora le partite del del primo delle primo Milan di Sacchi che era 87 8 ma io mi ricordo addirittura le partite di Terranio Nucciari eh di Bartolomei quindi sono 83 84 l'anno del mio esordio Nucciari parte a miseria il polo di Bartolomei Ray Wilkins Atley prima ancora Gareth e Blissett esatto io sono boomer vero no io ho iniziato a fare Milan l'anno che eh si andò in Serie B nell'80 nell'81 82 quindi insomma eh mi sono temprato da lì immediatamente no io volevo chiedere proprio a riferimento a quello che eh che hai detto prima no quando a un certo punto passi attraverso determinati stati mentali poi dopo devi proprio in virtù della complessità delle cose relativamente al Milan di adesso che eh entrando un attimo una porzione dell'episodio all'interno dell'attualità eh loro eh questa stagione faccio riferimento alle parole ritornali di inizio stagione qualcuno ancora non è con la testa nella stagione abbiamo vinto abbiamo vinto il campionato ci sta vivere perché io l'ho vissuta professionalmente quel tipo di problematica vivere una sorta di ebrezza tra virgolette da vittoria che non ti permette di essere completamente concentrato anche se tu sei super professionale vuoi essere concentrato ma fai fatica perché sei distratto dall'aver vinto dall'aver festeggiato sì sì io credo proprio che si tratti ovviamente di una di una situazione inconscia come dicevo prima no perché probabilmente eh è arrivato questo scudetto lo scorso anno meritatissimo ma forse in anticipo rispetto chiamiamoli ai tempi di programmazione di una di una crescita che il Milan stava stava avendo ultimamente in maniera graduale no e quindi è arrivato questo scudetto tra l'altro ripeto con grande merito e festeggiato da tutti e quindi probabilmente si è pensato anche di aver superato determinati step che invece avevano ancora necessità di essere masticati passatemi il termine processati nella maniera giusta e fatti e fatti propri da da tutti i giocatori c'è stato un momento di debacle incredibile no come poi sia come un interruttore che si accende e si spegne con quei due gol che si sono subiti con la Roma in casa hanno fatto da spartiacque no da tutto che andava bene proseguiva in un certo modo ad un momento durato un mese davvero di grandi difficoltà e per cui ancora una volta è certo che dal punto di vista emotivo e dal punto di vista mentale e cognitivo lì forse ci sono grandi margini di miglioramento rispetto alle squadre ci sono anche dal punto di vista sicuramente atletico sicuramente tecnico e tattico per carità però lì forse sono quelle sono le aree in cui si può si può ed è giusto dover lavorare in termini anche proprio di non tanto di procedure non so come dire ma di mental coaching ma di relazioni di capacità di entrare in empatia e quant'altro che poi non è che non abbia a che fare con mental coaching per carità no no infatti quello che io credo correggimi se sbaglio perché io vivendo le cose dal fuori io poi sono a 12 mila chilometri di distanza però sono un grandissimo appassionato lo stesso ci sta il credere che in un momento in cui hai affrontato nel percorso di una stagione diverse difficoltà anche importanti la chiave è proprio portare a casa il massimo dell'insegnamento da quelle difficoltà ed è quella la chiave che ti permette di fare eventualmente il salto l'alzare l'asticella di livello sì andrea io ovviamente non ho la verità però è chiaro che essendo passato determinate esperienze la persona si dice l'esperienza insegna si dice anche la storia insegna ahimè poi vediamo che la storia insegna poco però è importante che le persone con cui tu di cui stiamo parlando io credo che ci siano tutti professionisti di un certo di un certo livello di una certa serietà e questi sono sicuro che sapranno prendere quanto vissuto nella maniera giusta lo abbiamo visto poi c'è stato di nuovo un calo a firenze ma ci stava anche no c'era la preparazione a questa gara che era un po tutto a londra con il tottenham e quindi era normale normale che anche qui probabilmente inconsciamente tutti pensassero già o pensassero più a quella gara lì che non nel retrocragno come si dice che non ha quella differenza dopodiché c'è stata una fiorentina a nord del vero che ha giocato ha sciorinato un bel calcio coraggioso propositivo un calcio moderno assolutamente io se sei d'accordo ti porto i saluti e i complimenti da gianni favaretto che che è juventino però saluta e fa i complimenti lo stesso grazie qui c'è se vuoi rispondere luca la fortezza che saluto volevo chiedere a filippo se è vero mamma mia no ma questo è veramente è è uno scandalo è uno scandalo ma io non mi sono mai permesso di rivolgermi al mio avversario in quei termini o cerca di essere intimidatorio perché non aveva senso questa cosa come si solo diranno questo timidire no io devo giocare su altre cose ma assolutamente ogni tanto lo tirano fuori a me da veramente fastidio no però quindi dipende poi della professionalità di di chi continua a fare girare e dall'onestà intellettuale anche perché è stato segnalato più volte che questa cosa non fosse vero però ovviamente abbiamo avuto l'occasione almeno per fare chiaro ovviamente per sentire la mia campana non l'avevo neanche seguita se si chiede invece rocco cosa si prova a rendere milioni di persone felici attraverso la vittoria di una partita giocata da protagonista beh guarda io sono stato tifoso sono tifoso perché ho questo di fare mina da sei anni avevo i miei cugini che erano milanisti la mia zia che era milanista e quindi sono stato subito in strada tolì e quindi a maggior ragione capisco la gioia che tifosi possano provare quando quando verso verso i loro pegnamini o i loro protagonisti insomma quindi è una cosa bellissima è chiaramente una cosa che innanzitutto si prova sulla propria pelle e nel proprio nel proprio animo rispetto a una vittoria tipo quella di di atene ma anche quella di di como quando abbiamo pareggiato e abbiamo il primo scudetto con sacchi piuttosto che quella di barcellona poste agua perché comunque venivamo da tanti anni che minano non vinceva una una champions e lì anche se io non ho giocato da titolare per me vedere tutti quei milanisti che arrivavano a riempire barcellona e hanno poi riempito il cap nu beh ancora adesso è da e da pelle d'oca insomma ecco come si dice io ti faccio anche questa domanda visto che tu qualche esperienza ce l'hai visto che di champions quante ne vissute dunque vinte tre poi vissute ne abbiamo perso due quella di marco il marsiglia e quella con l'ajax quindi la finale cinque ecco la fine finale poi vissute sicuramente di più però quelle finali sono state cinque tre vinte due invece andate male qui c'è galza che dice io sono lorenzo di salutarlo e andre permetti di salutarlo perché è mio fratello ah ma dai allora leggilo te il messaggio di mio fratello va leggilo te sì io sono lorenzo da palermo ma vive vive vicino milano da 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 anni è tifonissimo del palermo ma l'ammirazione che ho per filippo è smisurata sia come calciatore che come uomo vorrei chiedere dove può arrivare il milan in questa champions allora se parlo da tifoso io spero che possa arrivare il più avanti possibile possa arrivare addirittura la finale se poi do uno sguardo a quelle squadre che ad oggi sono rimaste è vero che non sono sono altre tre perché ci sono il benfica c'è il bayern e c'è il celsi diventa difficile però diventa difficile dobbiamo anche dire che non dobbiamo giocare un campionato dobbiamo giocare un quarto di finale su due partite un andato e un ritorno ed è sufficiente che una squadra che magari più forte di noi sbagli una partita certo non dobbiamo basarci sull'errore degli altri ma dobbiamo andare a provare a vincere queste partite però ora siamo certi innanzitutto godiamoci dai godiamoci di essere tornati tra le otto migliori squadre d'europa e poi non ci poniamo limiti ecco importante sarà a dire il vero riuscire ad arrivare nelle prime quattro in campionato e credo che sia un altro un altro obiettivo l'obiettivo più importante anche per una questione di sostenibilità di poter continuare a dare continuità al progetto ecco sì no perché poi dopo ci sono delle stagioni tu ce lo puoi raccontare meglio di noi che per esempio questa poteva sembrare all'inizio una stagione un po mezza di transizione però nelle stagioni di transizione poi alla fine posso venirti fuori quei percorsi strani proprio nelle coppie no esatto perché porsi dei limiti e poi sappiamo benissimo che ci sono squadre oggi in italia vabbè è solo il napoli che ha dimostrato di essere più forte di noi per quello che ha espresso in termini di gioco di prestazioni le altre altre no adesso a memoria potrei sbagliarmi in europa è chiaro che è diverso ma ci sono se abbiamo le squadre inglesi e sappiamo il bayern quanto sia virtuoso come club e quanto riesca quanto riesca a fare quadrare bilanci e risultati sportivi e tra l'altro l'avete trattato anche voi nel blog lo andremo a trattare nel mio blog la settimana prossima e quindi insomma dai è bello è bello poter avere a che fare con il calcio con tutte assolutamente le sfaccettature che questo può portare guarda ti chiedo un'altra cosa se posso approfittare esisto che tu eri nel milan già da prima che arrivasse silvio berlusconi e quando è arrivato berlusconi berlusconi ha portato un qualche cosa che non c'era ancora stato io purtroppo non l'ho potuto vivere dal dentro ho solo potuto vedere dal di fuori le partite andavo ancora allo stadio quando c'era ancora san siro con le reti nere e che cosa che cosa hai voluto dire dall'interno sentirsi praticamente trasportati come se fosse una vicella spaziale in una dimensione completamente così diversa e trovarsi nel giro di così poco tempo sul tetto del mondo è stata una rivoluzione dai è chiaro che con l'arrivo di berlusconi poi dobbiamo ricordare che a brevissimo arrivò un altro rivoluzionario in termini tecnici che fu Enrico Sacchi e quello che nel calcio ci sia lo dico sempre un calcio prima di Sacchi in Italia e un calcio dopo Sacchi e quindi una presidenza una proprietà che portava criteri aziendali all'interno di un mondo come quello calcistico almeno in certa parte era già un'innovazione Sacchi portò la sua parte di innovazione i giocatori che vennero acquistati portarono grande qualità tecnica la tifoseria del Milan non aspettava altro e quindi lo staff tra l'altro colgo l'occasione per ricordare Italo Galbiati che ci ha lasciato ieri e tra l'altro proprio pomeriggio scriverò un ricordo suo particolare perché è stato un po' il mister di tutti noi ed è stato un po' un tradugnone tra l'altro tra i mister più vincenti del Milan tra Sacchi e Capello e quindi davvero una una preghiera per il mister Galbiati e adesso mi sono un po' perso mi sono fatto prendere dall'emotività e dal pensiero per Italo dicevo e quindi è stato tutto davvero qualcosa di incredibile tutta una serie di elementi che hanno trovato il loro posto all'interno di un puzzle che ha determinato poi una figura incredibile come quella del Milan che è diventato campione in Italia prima in Europa e poi sul tetto del mondo ma soprattutto lo ha fatto ed è rimasto una storia per questo offrendo un calcio bellissimo delle prestazioni straordinarie a cui anche chi non era milanista in qualche modo si è avvicinato ed è stato un po' preso da questo. La cosa bella vista da fuori è stato vedere quanto comunque tutta una serie di figure lo stesso Franco Baresi che venivano da prima avevano comunque maturato una formazione così seria così professionale da prima che arrivassero Berlusconi. Cioè i valori che portava che venivano che erano all'interno di... E' indubbio che voglio dire c'era già un'idea portata avanti dall'IDOM se vogliamo anche relativamente all'idea di giocare a zona importante su cui c'erano già un gruppo di giocatori che arrivavano dal settore giovanile in primis Franco, Paolo, io, Chico, insomma tutta una serie di giocatori che avevano il milan dentro e questo indubbiamente ha aiutato secondo me anche i vari giocatori che sono arrivati poi dopo e anche gli stranieri no perché c'erano... Io dico sempre che c'era una cultura del lavoro in quel gruppo unica e anche chi arrivava da fuori che magari aveva più talento, più estro, è stato portato ad impegnarsi e a lavorare in un certo modo proprio da un gruppo che aveva quell'idea di lavoro, di abnegazione verso l'obiettivo. Bene Filippo, io penso che se a voi va bene andiamo in chiusa dell'episodio, siamo arrivati più o meno a un'ora di registrazione, andrei avanti per altre due ma non voglio abusare della gentilezza. Ma anch'io, ma magari se a voi, se non abbiamo ammazzato qualcuno... No, credo poco di no. No, per me, se te ne parlavo prima, magari quando hai voglia prendiamo spunto da un argomento tratto proprio dal tuo blog, se hai voglia ci rincontriamo, lo trattiamo insieme, possiamo fare tante cose molto volentieri. Con grande piacere, tu avete i miei numeri, vi do anche la mail, che tra l'altro la mail l'ho fatta in base a Carlo Pellegati, WhiteSharki63, squalo bianco, gmail.com, a quel malato di Pellegati. Che salutiamo Carlo. Va bene, è finito veramente, grazie mille, per me è stato piacevolissimo, sono convinto che è stato così anche per tutti quelli che sono stati in ascolto e che hanno partecipato in chat, ringrazio anche Salvatore per aver partecipato, grazie mille anche a te, Salvatore. Grazie, grazie Andrea, grazie Filippo, rinnovo il piacere di averti conosciuto, perché rientri in quell'Olimpo, in quell'immaginario, diciamo, di tifoso milanista che tanto ci ha fatto stare bene. Piacere mio Salvatore, piacere Andrea e salutatemi Gazza, fratello di Salvatore e tutti coloro che sono stati in ascolto e speriamo di avere acceso qualche interesse verso qualche argomento, insomma, ecco. No, sono scusibili quando ci si incontra. Vodicù, va bene Filippo, allora ti ringraziamo tanto, ci aggiorniamo presto e spero di ricontrarsi a presto, a disposizione. Grazie mille. Forza mille. Ciao. Ciao, ciao.